Batteria, ruba, 2912, 43, 51, 58, 91, 29, 38, 58, 36, 38, 291 Termina batteria Ruba Andi come i giorni, sono la bifia, un breve fotogramma, un treno in galleria, hanno fatto sempre i giorni, la fomicità, è una storia in ospiti, cosa esiste? E' una storia in ospiti, cosa esiste? E' una storia in ospiti, cosa esiste? E' una storia in ospiti, cosa esiste? Bene, grazie, seconda battaglia.